Con una modulazione bella squilante, c'è un pizzichetto, ma ti ripeto, lui è proprio una cosa minima che è probabilmente di autoparlante, sentono un ruolo nelle parti acute, io ho ascolti in cuffia, arrivi con un buon segnale, anche, insomma, è proprio una cosa minima. Non mi ha detto l'antenna, lui che tipo di antenna trappolata è, scusami? Ma è un miboro, molto spetticcia, fatto a casa, capitato per i 40 metri. Poi, alla fine, alle due estremità ci sono due puntine, una puntina da una parte, una dall'altra. E dalla puntina poi prosegue la corona per un mettere in fondo. E qui, la ora, anche tutto stanza, poi chiaramente la vista è un po' di controllo, è un po' di controllo. Sì, 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 ho capito. Quindi non so se c'è in mezzo il balon, se è fatto perché potrebbe anche ricadere da lì quel pizzichetto che solitamente anche al balon delle volte è pure una ferrite, ovvero dopo sarà avvolta nel cavo, ovvero dopo non fa male, ma questo non tanto su uno e uno, ma su quelli lì con alta impedenza.